di valentino rosso ok ascolta casomai tirami giù te mi tiri giù te intanto tieni il telefono intanto finchè te l'accendo eh eh? finchè te l'accendo tiramela giù te tieni tirami giù un attimo eh guarda inquadrami anch'io ciao ciao ascolta ciao ne è stosimo come ciao 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 Ok, fai l'altro direto se vuoi. Veniamo, aspetta, il numero 46. Senti la sola, senza benzina, senza benzina, ciò ciò, molto, ciò ciò. No, ma adesso guardo, cosa succede adesso.